Buongiorno a tutti amici, bentornati qui sul canale per una nuova video recensione. E voi sapevate che Soundpeats, oltre a effettuare delle ottime cuffie, beh, da poco tempo si è messo a fare anche gli smartwatch. Beh, oggi vi parlo quindi di lui, del Soundpeats Watch Pro 1. Ma prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e cliccare sulla campanella per non perdere i video futuri che verranno. E detto ciò, partiamo proprio con lui, Watch Pro 1 di Soundpeats. E amici cari, direi di cominciare analizzando direttamente il design di questo Soundpeats Watch Pro 1. Un dispositivo decisamente elegante grazie al form factor di questo quadrante dalla forma circolare, nonché dalla costruzione e dal look minimal che conferisce a questo dispositivo una certa indossabilità sia a polsi femminili che a polsi maschili. Ve lo metto però un attimino a confronto con il Samsung Galaxy Watch Active 2, tutt'altro genere, tutt'altro pianeta, ma guardate qua, sembrano decisamente identici al di là del pulsante qui di funzione e questo fa sì che appunto questo smartwatch sia particolarmente apprezzato da coloro che cercano proprio design e raffinatezza in un dispositivo indossabile. Parliamo di misure pari a 50 mm x 45 mm, per uno spessore di 14 mm e una costruzione davvero ben ben realizzata grazie ad una cassa realizzata in lega zincata sotto vuoto. Questo fa sì che tutta quanta la struttura sia decisamente resistente ad urti e graffi e quindi eventualmente anche a piccole cadute. Guardate qua che bello il display, soprattutto con questa watch face leggermente animata, purtroppo però non abbiamo un sensore dedicato all'illuminazione ambientale e quindi per regolare proprio l'illuminazione del display dovrete agire dai toggle rapidi andando quindi a impostare la vostra illuminazione preferita agendo su quattro diversi livelli. Adesso la impostiamo sul massimo perché devo dire che proprio l'illuminazione è uno dei punti deboli di questo dispositivo non tanto perché si legga male per quel che riguarda i contenuti a schermo ma perché sotto luce diretta del sole praticamente farete leggermente fatica quando proprio questa illuminazione del sole è intensa e quindi non avete modo di spingervi oltre perché questa come potete notare è l'illuminazione massima. Dalla camera non rende, diciamo in ambienti come questo dove mi trovo io quindi in ufficio, in casa, quel che sia lo leggete benissimo ma purtroppo sotto luce diretta del sole, ribadisco, farete leggermente fatica. Abbiamo un'unità da 1,28 pollici, tecnologia IPS risoluzione 240x240 pixel, questo significa che non avete logicamente l'always on display e quindi ogni volta dovrete risvegliare il dispositivo o con la gesture del polso o eventualmente con il pulsante qui posizionato sulla parte destra della cassa. Pulsante che serve unicamente ad accendere e spegnere appunto il display o eventualmente tenendolo premuto ad eventualmente proprio accendere e spegnere proprio l'orologio stesso. Passando sulla parte posteriore troviamo i poco pin magnetici per la ricarica tramite appunto cavo magnetico, una ricarica che avviene in circa due orette e mezza e abbiamo poi qui la sensoristica dedicata unicamente al rilevamento della frequenza cardiaca. Abbiamo però un'ottima costruzione, ribadisco, qui tutta plastica mentre qui è vetro e cosa buona abbiamo un cinturino con lo sgancio rapido, un cinturino realizzato in gel di silicio che non crea alcun fastidio una volta indossato al polso. Dicevo comunque un cinturino con sgancio rapido e quindi potete sbizzarrirvi a trovarne di altri direttamente sullo store Amazon in modo da creare un vostro outfit da personalizzare direttamente con le watch face disponibili sull'orologio. Abbiamo una piccola chicca ovvero qui il logo dell'azienda Soundpeats, abbiamo qui proprio la chiusura realizzata in metallo e abbiamo un doppio passante che servirà quindi a evitare l'effetto bandiera una volta che indossate l'orologio al polso. Peraltro molto molto comodo, indossabile, l'indossabile perché abbiamo un peso di soli 54 grammi al netto del cinturino e questo praticamente non crea alcun fastidio durante l'utilizzo quotidiano nonché proprio nell'indossarlo anche durante il sonno. Peraltro il monitoraggio del sonno è una delle attività che permette questo dispositivo. Prima di farvi vedere il menu e cosa ci offre questo orologetto, vi dico che lui integra un Bluetooth 5.0 che ha un'ottima connessione, un'ottima stabilità con il nostro smartphone entro 10 metri e infine lui vi regala anche l'impermeabilità IP68 fino a 5 metri, questo significa che potete tranquillamente indossarlo sotto la doccia o per fare una nuotata senza che lui vada a danneggiarsi. Parlavo prima di watch face che possono essere cambiate direttamente tenendo premuto qui sulla home, ne sono disponibili sull'orologio ben 8 tra cui potete inserirne anche una personalizzata con una vostra foto. Al momento io l'ho eliminata ma dopo vi faccio vedere. Ci ho comunque watch face che possono essere cambiate, tante sono anche animate, mentre effettuando uno swipe verso il basso accediamo a quello che sono i toggle rapidi potendo ricercare il nostro smartphone qualora l'abbiamo perso in casa, potete appunto regolare la retro illuminazione, potete abilitare o no la modalità non disturbare ed entrare nelle impostazioni dove però trovate unicamente la possibilità di spegnere, disattivare e ripristinare tutto quanto il sistema, visualizzare le informazioni oppure il QR code per lo scarico dell'app. Effettuando invece uno swipe verso l'alto accediamo a quelle che sono le notifiche e la parte smart ragazzi non vi aspettate chissà cosa perché potete unicamente leggere il contenuto delle notifiche da tutte le applicazioni ma peraltro vedete che su determinate applicazioni non potete leggere nemmeno tanto il contenuto e una volta letta ogni singola notifica questa verrà cancellata. Infatti vedete che piano piano spariscono, non potete rispondere, non potete visualizzare emoji, foto, quello che sia e appunto né tantomeno rispondere. Eventualmente potete cancellarle tutte quante. Quindi una parte smart molto molto sempliciotta così come per le chiamate potete unicamente ricevere la notifica della chiamata, dell'ID chiamante e potete eventualmente silenziare la notifica. Null'altro ma d'altronde per un dispositivo a basso costo non ci aspettavamo chissà quale miracolo. Effettuando invece uno swipe verso sinistra accediamo a quello che è il dato statistico della nostra giornata con passi, distanza e calorie bruciate, andare a visualizzare il monitoraggio della frequenza cardiaca, peraltro diviso su due pannelli in base a 12 ore del mattino e 12 ore invece del pomeriggio e quindi della sera e frequenza cardiaca che è praticamente sempre visualizzabile in tempo reale. Questo significa che non potete effettuare delle misurazioni a spot ma andate proprio a visualizzare sempre il dato in tempo reale e qua devo fare un plauso a soundpits perché ogni volta che ho visualizzato la mia frequenza cardiaca messa a paragone con altri dispositivi o eventualmente con pulsossimetro da dito, beh questo valore è stato praticamente sovrapponibile alla realtà. Scorrendo ulteriormente abbiamo poi le statistiche relative al sonno e possiamo poi entrare negli sport. 13 sport monitorabili che poi vi faccio vedere ed infine gestire la musica. Player musicale nativo dell'orologio ma anche tutti i player come youtube, spotify, deezer, amazon music e quant'altro. Potete unicamente mettere in play, pausa la traccia e eventualmente schippare avanti o indietro alla traccia successiva. Infine scorrendo verso destra accediamo a quello che è il menu vero e proprio dove ritroviamo appunto la frequenza cardiaca, lo stato attuale, il sonno, abbiamo il cronometro, le nostre notifiche, abbiamo le impostazioni che già vi ho fatto vedere e poi abbiamo appunto gli sport. Dicevo 13 sport monitorabili, i più comuni tra cui troviamo la corsa, la camminata, il ciclismo, l'alpinismo, lo yoga, il salto con la corda, il tennis, il baseball, sono uscito un attimino, il badminton, la palla canestro ed il calcio, oltre che al rugby e il ping pong. Diciamo che molti di questi non ve ne fate nulla anche perché le metriche dedicate sono unicamente per i principali sport, anche se in realtà ho trovato la metrica dedicata per il salto della corda. Vi faccio infatti vedere che una volta avviata l'attività vedete che qui abbiamo il conteggio proprio di quanti salti con la corda effettuiamo. Questo perché proprio con la rotazione del braccio viene attivato quindi il sensore all'interno che riconosce se effettivamente stiamo effettuando una rotazione oppure no. Cosa strana per quel che riguarda gli sport è che avendo una certificazione IP68 non abbiamo invece il nuoto monitorabile, davvero strano. Oltre a questo avete potuto vedere, al limite ve lo faccio rivedere, che avviata l'attività non abbiamo grandi dati, infatti qui potete leggere unicamente il battito cardiaco, la durata del nostro sport, i passi, abbiamo la distanza percorsa e non possiamo leggere nient'altro se non mettere in play pausa appunto l'attività sportiva e niente non possiamo nemmeno accedere al player musicale. Cosa peraltro che non mi è piaciuta è che quando viene diciamo quando si spegne lo schermo dovete per forza ogni volta reagire con la rotazione del polso o con il pulsantino per visionare il dato quindi questo non rimane attivo. Sarebbe stato simpatica una funzione che permettesse appunto all'orologio di rimanere sempre attivo. Detto ciò non abbiamo nient'altro per quel che riguarda l'affidabilità dei dati posso dire che si è comportato molto molto bene anche se dipende dal braccio cui le indossate ovvero se indossate questo orologio sul braccio dominante lui legge bene i dati e quindi non ho trovato grandi differenze rispetto alla realtà se non una leggera sovrastima del 5 per cento. Totalmente opposto invece se lo indossate sul braccio non dominante come in questo caso al di là che adesso l'ho tolto mezz'oretta fa ma praticamente lui ha contato quasi 3.000 passi 2.882 passi rispetto gli oltre 6.000 passa che invece mi sta contando al momento il Fitbit Luxe e quindi per quanto possa essere magari anche lui non proprio precisissimo però capite che uno scarto di quasi 3-4.000 passi beh sono davvero davvero tantissimi. Ma vediamo quella che è l'applicazione che gestisce il tutto che è poi Soundpeats Sports. Si divide in quattro diverse finestre la principale appunto home page dove ritroviamo il repilogo giornaliero per quel che riguarda i passi, l'obiettivo raggiunto, la distanza e le calorie bruciate. Abbiamo appunto la possibilità di visualizzare la nostra frequenza cardiaca con eventualmente le varie statistiche se siamo stati in uno stato di riposo, allenamento, brucia grassi e quello che sia e visualizzare i dati relativi al sonno come in questo caso dove devo dire lui è piuttosto preciso per quel che riguarda il fatto di inizio e fine del nostro attività di dormire ma purtroppo un po' meno impreciso per quel che riguarda le attività, le fasi. A di là che lui legge solo il sonno profondo e il sonno leggero ma per quel che riguarda il risveglio durante le fasi notturne non sempre ci azzecca. Infatti mi capirò di svegliarmi più volte durante il corso della notte e lui l'ha contato unicamente una volta. Al di là di questo poi qui abbiamo l'attività dello sport dove potete eventualmente far partire un'attività direttamente dallo smartphone e in quel caso avete tracciato anche GPS in quanto lui ne è sprovvisto o eventualmente andare a visionare le attività che avete svolto. Ve ne faccio vedere una proprio al caso ho fatto proprio una prova al volo dove purtroppo non abbiamo chissà quali dati sono appunto i dati relativi a passo, tempo totale, consumo calorico eccetera eccetera e eventualmente il grafico della frequenza cardiaca. Non grossi valori diciamo da analizzare non è sicuramente uno sport watch. Abbiamo poi qui il dato relativo al dispositivo dove possiamo entrare qui in questa sezione e andare a scaricare queste watch face o eventualmente impostarne delle nostre con tanto di possibilità di mettere una foto quindi totalmente personalizzabile. Nel senso potete mettere una foto logicamente non potete personalizzare le complications che trovate qui a schermo. Oltre a questo possiamo rendere attiva la frequenza cardiaca H24, impostare una sveglia, andare a farci notificare gli sms, le chiamate, tutte le applicazioni e eventualmente andare a effettuare anche degli aggiornamenti firmware oltre che a impostare l'avviso di sedentarietà. Nelle impostazioni generali possiamo unicamente andare a cambiare la modalità di visualizzazione tra 12 e 24 ore, l'unità e eventualmente il tempo di retroominazione scegliendo tra 5, 10 e 15 secondi. Infine qui nella sezione account possiamo impostare il nostro obiettivo dei passi e eventualmente associarlo applicazioni di terzi ma guardate qua abbiamo solamente WeChat Sport quindi purtroppo non c'è un'integrazione né con Google Fit né tantomeno con strava. Ma ripeto questo orologio il Soundpeats Watch Pro 1 non è uno sport watch e quindi a chi si rivolge? Beh unicamente a utenti che cercano affidabilità per quel che riguarda i dati monitorati senza chissà quale approfondimento ma cercano soprattutto un'eleganza al polso. E siamo giunti alle conclusioni per questo Soundpeats Watch Pro 1. Dispositivo che mi è piaciuto piuttosto basilare ma comunque efficiente in tutte le funzioni per quanto possa essere limitate che offre. Beh un dispositivo che potete reperire direttamente sullo store Amazon con spedizione Prime e al momento è presente un'offerta che abbatte il prezzo fino a 34 euro e 19 centesimi. Insomma un prezzo più che onesto considerando un dispositivo estremamente di qualità per quel che riguarda proprio la costruzione e soprattutto l'affidabilità dei dati raccolti. Insomma per Emanuele è tutto ci vediamo a un prossimo video che magari sarà ancora più interessante di questo qui. Ciao!